Negli ultimi anni si è andato affermando un rapporto sempre più stretto tra neuroscienza e filosofia. Da una parte i neuroscienziati si interessano di questioni classicamente di pertinenza della filosofia, dall'altra i filosofi affermano che le loro riflessioni non possono prescindere dalle recenti scoperte scientifiche. Da dove originano tali esigenze, sia dall'una che dall'altra parte? Perché il materialismo sembra limitare radicalmente il sapere filosofico? Sembra che la filosofia non riesca da sola a formulare un pensiero capace di supportare la logica che guida i comportamenti biologici di molecole, cellule, tessuti. Forse la descrizione oggettiva dei fenomeni attraverso la misurazione è necessaria per la conoscenza anche della mente. Tuttavia, non è proprio la soggettività il problema centrale nello studio della mente? Siamo partiti da molte domande e da un paio di constatazioni che forse non sono condivise da tutti. Faccio due esempi. Non tutti i neuroscienziati sono convinti che la filosofia sia così importante nel loro campo. Alcuni sono convinti che la filosofia sia un esercizio che si fa fuori dal laboratorio, cioè una sorta di svago, qualcosa in cui misurare, se mi perdonate il termine, il loro dilettantismo. Molti filosofi non sono affatto convinti che sia importante sporcarsi le mani con le neuroscienze. Anzi, devo dire che la gran parte, la grande maggioranza dei filosofi della mente, in qualunque l'azione voi le andate a cercare, Italia compresa, è convinta che l'esercizio filosofico, soprattutto sui grandi temi della mente, della cognizione, delle relazioni sociali, della responsabilità, dell'azione e via dicendo, sia un esercizio a priori, cioè un esercizio che per natura non ha nulla a che fare con l'esperienza empirica, cioè noi vogliamo, dicono, studiare quelle condizioni che rendono possibile un certo atto, una certa forma di relazione sociale, una relazione come quella del linguaggio e via dicendo. Nulla di nuovo sotto il sole perché neanche il buon vecchio Kant pensava che tutto sommato la filosofia veniva prima e poi veniva l'imperia, tuttavia il buon vecchio Kant qualcosina di psicologia sapeva, qualcosina di antropologia sapeva e benché rivendicasse la natura a priori del metodo filosofico, non disdegnava di occuparsi di queste cose e basterebbe solo ricordare i suoi esordi con quel mirabile lavoro di cosmologia che tutti conosciamo. Quindi non è poi così vero che da entrambe le parti, se prendiamo i filosofi e i neuroscienziati, queste esigenze cose che si condivisa. Diverso se guardiamo le discipline, la situazione è molto diversa se guardiamo le discipline, cioè se guardiamo fondamentalmente le scienze cognitive o le neuroscienze cognitive, perché oggi la locuzione migliore è questa, allora uno si rende conto subito che sono in un territorio straordinario, dove sono stati compiuti i passi avanti enormi e tuttavia le interrogazioni che vengono formulate, non il modo a cui si dà risposta, ma le interrogazioni che vengono formulate non sono diverse da quelle classiche della teoria della cognizione filosofica, cioè che cosa significa conoscere, in che senso possiamo parlare di relazioni sociali, che cos'è un'emozione, che cos'è una percezione, cosa significa comprendere, come ci rapportiamo agli altri, qual è la caratteristica specifica del modo umano di comprendere il comportamento al tuo e vi dicono, queste sono le grandi questioni filosofiche, allora di fronte a queste domande, non dico che le risposte siano tipiche della tradizione, questo no, ma le risposte sono strettamente anche a livello empirico determinate dal modo in cui le domande vengono poste, c'è stata una grande ondata di studi, tutti sappiamo l'ondata cognitivista, che spinta dal desiderio e anche dall'intuizione di poter indagare scientificamente quello che apparentemente scientificamente non poteva essere indagato, cioè la cognizione, cioè la mente, ha iniziato a porre tutta una serie di domande con dei presupposti filosofici alle spalle, molto precisi, dalla rivoluzione cionschiana, dalla teoria del rappresentazionalismo fodoriano, dalla teoria dell'azione devizioniana o della ASCOM, questi sono i presupposti su cui si è costruite le scienze cognitive, che gli scienziati cognitivi lo sappiano o non lo sappiano, questo è un altro problema, ma loro usano queste categorie, arriva un momento in cui la ricerca però si trova come ingabbiata nelle categorie da cui è partita, arriva un momento in cui la ricerca sperimentale si imbatte in fenomeni non facilmente spiegabili sulla base delle categorie che tu stai usando, delle due l'una, forza i fenomeni, forza le categorie. Questo secondo me è l'esercizio filosofico più affascinante oggi, forzare i fenomeni come diceva Duane, nel senso di rendere conto dei fenomeni, sapendo però anche mettere in gioco le proprie categorie. Oggi la neurofisiologia dell'azione ci chiede una nuova teoria dell'azione, sociale. Oggi la neurofisiologia dei processi della cognizione sociale ci chiede una nuova teoria della cognizione sociale. Lo stesso vale sulle emozioni, non possiamo semplicemente accontentarci di dire sono fatti nuovi, no, sono elementi che richiedono una teoria e richiedono una filosofia, cioè richiedono un esercizio. Chi può fare questo? Chi può farlo, chi però ha il coraggio di mettere le mani in pasta, magari non sarà pulito come molti filosofi vogliono che l'esercizio filosofico sia pulito, tuttavia è fortemente produttivo. Bisogna intendersi, ci sono due modi secondo me di intendersi su questo punto. C'è chi pensa che l'esercizio del filosofo sia quello di dare definizioni, dare definizioni, cioè fare chiarificazioni concettuali in maniera tale che la chiarificazione concettuale ti porti a una definizione una volta per tutte. Ovviamente opinabili, ci sono posizioni opinabili, ma l'obiettivo è questo, cioè stiamo lavorando per questo. Oppure c'è chi ritiene che la chiarificazione concettuale sia un esercizio fondamentale, ma non necessariamente, ma i concetti sono produttivi non perché o non soltanto quando, o forse non proprio quando sono ulteriormente chiariti. Si potrebbe fare un esempio, una quantità enorme di esempi nella storia della scienza di concetti straordinariamente produttivi, euristicamente produttivi e assolutamente non chiariti. Pensi al concetto di massa, pensi al concetto di calcolo. Non è che si è fatto il calcolo con la C maiuscola solo dal momento in cui c'è stata una definizione del concetto di limite, del concetto di derivato, ma se così fosse la meccanica newtoniana non sarebbe mai sorta e tuttavia aveva a che fare con entità non propriamente definite. Perché oggi si chiede all'esercizio filosofico di dare entità definite quando la ricerca ti spinge ad avere un buon grado di chiarificazione concettuale, ma tuttavia essere sufficientemente pronto per rivedere le tue stesse definizioni, per riplasmarle, per ricambiarle. Io credo che da questo punto di vista, e vengo all'ultima parte della domanda sul materialismo, sullo spazio della filosofia, il problema del materialismo è un problema filosofico, non è un problema scientifico. Il problema del materialismo è un problema di definizione di che cosa uno intende per il materialismo e non ha nulla a che vedere con i risultati della scienza o meno. Non è che la scienza dimostra che il mondo è come vuole un materialista, ci sono degli argomenti in favore del materialismo e degli argomenti contro il materialismo, entrambi sono filosofici, non sono argomenti scientifici. Quindi da questo punto di vista è una disputa tra filosofi, interessante quanto si vuole, che non trova piglio nel tipo di descrizione scientifica, perché che tipo di descrizione scientifica abbiamo se non in termini di neuroni, meccanismi neurali, di cosa stiamo parlando, ma questo non è che rende il materialista vincitore o il dualista necessariamente perdente. Il dualista è perdente se non ha buoni argomenti contro il materialista, il materialista è perdente se non ha buoni argomenti contro il dualista. Non è che Descartes presenta una posizione dualistica perché non sa niente per quanto riguarda la costituzione del sistema nervoso piuttosto che altro e non sono gli errori nell'interpretazione dei meccanismi base a livello sia del sistema periferico che centrale, del sistema nervoso che portano verso una concezione dualista, non è questo il problema, sono gli argomenti. Quindi la sfida, materialismo o no, è una sfida tra filosofi che si gioca nel contesto filosofico e non ha a che fare con la spiegazione scientifica. Altra cosa invece è, secondo me, che cosa ce ne facciamo del rapporto tra filosofia e scienza? Io lo vedo in questo senso, lo vedo e lo pratico in questo senso. Io sono un filosofo che fa ricerche empiriche, maldestramente ovviamente, come faccio maldestramente filosofia, e però ha l'idea della differenza, sia nel modo di porre le domande, sia nel tipo di questioni e di argomentazioni che sono necessarie. La cosa che per me è interessante è partire da alcuni problemi teorici, fare quella che non è una cosa nuova, perché c'è una grandissima tradizione, non c'è mica solo l'analisi logica dei concetti, c'è anche l'analisi empirica dei concetti. Il buon vecchio Carnap questo preconizzava, molto del mio empirismo logico pensava non solo all'analisi concettuale, nel senso dell'analisi logica dei concetti, quello che fa la filosofia analitica standard, ma l'analisi empirica, tradotto vuole dire andiamo a vedere in che misura questi concetti sono empiricamente produttivi, in che misura consentono delle misure, come diceva prima lei. Facendo questo, che cosa creiamo? Creiamo dei setting sperimentali, creiamo delle sfide sperimentali, io non faccio attività sperimentale così per farla, faccio rispondendo a delle precise aspetti teorici. Dopodiché torno indietro e mi riporto sul piano della teoria. Invece di usare gli argomenti e gli esempi o i controesempi nei mondi ideali o possibili, mettendomi, come molti miei colleghi, secondo una grande tradizione, rispettabilissima tradizione fanno, cioè facendo una psicologia da tavolino, io faccio la stessa cosa che fanno loro semplicemente con una psicologia da laboratorio, cioè vado a vedere se davvero le ipotesi teoriche con cui mi confronto, possono essere tradotte in un setting sperimentale. Se lo sono è già una grande cosa, indipendentemente dall'esito dell'esperimento, perché vuol dire che catturano qualche fenomeno, dopodiché sulla base dell'esito dell'esperimento, non dico semplicemente questo a favore di un'ipotesi e questo a un'altra, ma torno poi sul piano teorico per vedere quali implicazioni l'attività sperimentale ha sul piano teorico. La risposta a un problema teorico è sempre soltanto teorica, ma l'aspetto empirico ti aiuta a raffinare gli strumenti per dare la risposta, non ti dà la risposta, ti dà gli strumenti per dare la risposta e io credo che questo, soprattutto nell'ambito delle neuroscienze cognitive, sia fondamentale. Se mi permette uno slogan, qualche tempo fa, prima di scomparire prematuramente, una filosofa come Susan Erli diceva che ci sono due modi di rapportarsi alle neuroscienze, di fare filosofia con le neuroscienze. Uno è il filosofo della mente classico, fa il suo modello della mente, guarda come funziona il cervello, il cervello non va come o non è in linea con le aspettative del suo modello della mente, si dispiace per il cervello e si tiene il suo modello della mente. Poi c'è il filosofo della scienza, che parte sempre dal modello della mente, perché dal modello del mentale devi partire per indagare le proprietà funzionali del cervello. Guarda il cervello, se i dati del cervello non sono in linea con il suo modello del mentale, si dispiace per il suo modello del mentale e se ne costruisce un altro. Ecco a me piace più questo secondo modo di procedere che il primo. Tuttavia l'empirismo scientifico ha forti pretese filosofiche, che prescindono dall'ambito teoretico. Sì, però su questo devo dire, io sono stato molto fortunato, nel senso che ho potuto iniziare ad addentrarmi nei cammini dell'inoscenza avendo grandissimi maestri, persone molto raffinate, Giacomo Rizzolati, Vittorio Gallese e altri, ma loro due soprattutto, Leonardo Fogassi anche, che mi ha insegnato molte cose. Ma nessuno di loro ha mai pensato che la componente concettuale, filosofica che c'è dentro un'impresa scientifica sia semplicemente qualcosa che il neuroscienziato può tirare fuori così, in maniera quasi dilettantesca. Tanto è alta la stima verso la componente filosofica quanto è anche il timore di cimentarsi senza andare negli strumenti appropriati. Io non sopporto i filosofi che vanno a spiegare agli scienziati che cosa devono fare, però è abbastanza anche irritante sentirsi lo scienziato che ti spiega cosa devi fare come filosofo, ti deve spiegare in che misura la tua riflessione è poco attinente con la disciplina, ti deve mettere di fronte ai problemi, ma non può semplicemente e in modo totalmente dilettantesco cimentarsi in questi problemi. Che poi la scienza abbia rilevanza filosofica è vero, ma non tutta e non tutti i problemi, non tutti i problemi scientificamente interessanti sono filosoficamente rilevanti, così come non tutti i problemi filosoficamente rilevanti necessariamente comportano aspetti scientificamente interessanti. A volte succedono queste magie in cui l'una cosa e l'altra si combinano, la scoperta dei mirror neurons è uno di questi effetti, di questi casi, ma non l'unico, ce ne sono tanti, ma bisogna stare attenti a non pensare che qualunque aspetto della ricerca scientifica sia filosoficamente rilevante, così come non pensare che qualunque aspetto della ricerca filosofica trovi una risposta filosofica, ma attraverso un'indagine empirica. Non è necessariamente così, a volte capita.